Prima di sedersi al tavolo della maggioranza con le altre forze politiche, Landella intende chiarire tutto con i consiglieri del suo partito. Oggi pomeriggio è previsto un vertice con gli azzurri di Forza Italia. Nel corso dell'incontro il sindaco spiegherà le sue ragioni e verificherà l'ipotesi del ritorno. Ipotesi che sono tutte legate alle consultazioni. La volontà del partito comunque inciderà nella valutazione del sindaco. Molti forzisti inviteranno Landella a fare un passo indietro e a valutare il programma di fine mandato da concordare con le altre forze della coalizione di maggioranza, a cominciare dalla Lega che ha chiaramente dettato le condizioni. Azzeramento della giunta, nomina di un esecutivo tecnico e riduzione del numero degli assessori da 9 a 6. Stasera al termine della riunione di Forza Italia il sindaco dovrebbe avviare le consultazioni, prima con la Lega, poi con il gruppo composto da Catanio, Russo e Pertosa. Probabile un confronto anche con Raimondo Ursitti, il consigliere che fa riferimento a Lucio Tarquinio. Per avviare le consultazioni Landella dovrebbe ricevere il via libera dal suo partito.